Un cordiale saluto da Federico Grasso e ben ritrovati con il metodo di ARPAL, quest'oggi sulla Liguria progressive schiarite a partire dal centro ponente. Premangono tuttavia ancora condizioni di residuo e stabilità con possibili isolati rovesci o temporali, più probabili sull'estremo levante e sui lievi alpini, in possibile movimento verso la costa. In serata il cielo sarà sereno o al più velato. I venti sono tra deboli e moderati in rotazione da sud al pomeriggio lungo la costa, da nord nell'interno e in serata sempre lungo la costa. Il mare mosso, in temporaneo calo o poco mosso al pomeriggio a ponente, in nuovo aumento in serata. Temperature massime comprese tra 19 e 25 gradi. Per domani, martedì 24 settembre, fino al pomeriggio il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, potremo avere il transito di qualche nuvola medio alta. Tuttavia, l'instaurarsi di un flusso umido da sud favorirà l'aumento della nuvorosità nei bassi strati nella serata di domani. I venti saranno tra deboli e moderati, inizialmente da nord, ruoteranno da sud dalla tarda mattinata, con locali rinforzi al pomeriggio lungo la costa di ponente e sui rilievi. Il mare, inizialmente mosso, localmente molto mosso con onda lunga di libeccio a largo del levante, calerà a partire dalla mattinata da ponente, fino a diventare generalmente poco mosso in serato ovunque. Temperature minime in calo, con valori in costa compresi tra 14 e 16 gradi, nell'entroterra tra 11 e 13, massime ovunque tra 20 e 25 gradi. Mercoledì 25 settembre, il transito di un nuovo impulso perturbato, associato alla formazione di un minimo sul Mar Ligure, favorirà condizioni di nuvolosità variabile, con i regolari addensamenti marittimo-costieri sul centro ponente, più compatti invece sul Levante, dove non si escludono precipitazioni di densità in prevalenza debole. Potremmo avere anche qualche locale fenomeno moderato a carattere temporalesco. I venti saranno debole e moderati in circolazione ciclonica sul Mar Ligure, in prevalenza da sud nelle ore centrali, con rinforzi da sud-ovest a ponente e settentrionali in serata. Il mare in aumento a mosso già dal mattino, diverrà molto mosso per onda da sud-ovest nel pomeriggio. Temperature minime in costa comprese tra 16 e 18 gradi, nell'entrotella tra 14 e 16, massime ovunque tra 19 e 25 gradi. Ricordandovi che tutti i dettagli sul Meteo Liguria sono consultabili sul sito www.arbal.com.it o sulla pagina Facebook dell'Agenzia, vi auguro una buona giornata. A risentirci!